E' una questione politica ma il refrain di Antonello Venditi c'entra poco. Nel centro-destra retino le acque sono agitate anche se in realtà queste erano mosse da molto tempo. Il braccio di ferro tra il carroccio da una parte e Fratelli d'Italia dall'altra non fa altro che rispecchiare quello che sta succedendo nelle stanze romane. E' un duello a tutto campo che non riesce a trovare la mediazione di chi dovrebbe fare da collante. Ad Arezzo c'è grande preoccupazione sia in Forza Italia che tra i civici di Ora Ghinelli. L'interrogazione presentata al sindaco dovrà chiarire chi saranno quei consiglieri che hanno avuto i rapporti con Estra e Coingas. Intorno alla partecipata si gioca un vero e proprio braccio di ferro. La Lega punta alla presidenza viste le difficoltà che ha Francesco Macri in questo frangente. Il parere del tarre vincolante ma il problema è politico non solo giuridico. E si riflette nella posizione del sindaco che dovrà mediare giocoforza tra le due sponde alleate. Dopo i leghisti di Cortona passati con i Meloniani, la divisione alle recenti comunali di Sansepolcro con la candidatura di Laura Chieli, la bruciatura elettorale leghista nel trionfo di Silvia Chiassei a Montevarchi e l'elezione di Nicola Carini alla vicepresidenza della provincia, la questione Estra rischia di fare saltare il banco. È una questione politica, lo diceva anche la canzone di Venditti.